Quante volte vi sarete chiesti qual è il CPU load ottimale per la vostra FC? Specialmente se poi avete installato Betaflight 4.3 RC4 sul vostro drone FPV avrete senz'altro notato dei carichi del 50-60%. Allora, che cosa significa questo carico? Come possiamo capire se creerà problemi al nostro volo? Quali sono questi problemi e come possiamo risolvere o comunque mitigare questo problema sul nostro drone FPV? Questo e molto altro ovviamente all'interno di questo video, quindi cominciamo. Cominciamo con un po' di storia. Con tutte le versioni di Betaflight inferiori alla 4.3 siamo sempre più o meno stati abituati ad avere un CPU load molto molto basso ossia 3, 4, 5, non so, al massimo 10% e questo ci faceva stare in qualche modo tranquilli che non ci sarebbero stati problemi durante il volo. Infatti più volte quando si parlava di Betaflight e quando si parla di Betaflight uno dei consigli è proprio quello di andare a controllare questo parametro. Però con l'arrivo di Betaflight 4.3 qualcosa è cambiato. Infatti molte persone si sono lamentate di un carico CPU spropositato, diciamo, che raggiungeva in molti casi anche il 60%. Vi spiego perché è successo questo e poi anche cosa c'è secondo me dietro tutta questa problematica e dietro tutte quelle che potrebbero essere le conseguenze di un CPU load così elevato. Allora, l'unica cosa che è cambiata tra Beta 4.2 e 4.3 è il modo in cui viene calcolato questo sforzo della CPU. Che cosa significa? Se per Beta 4.2 la CPU stava al 10% e adesso l'abbiamo al 60% non è che quel processore sia sfruttato maggiormente. Ecco, sotto alcuni aspetti certamente. Però quello che è cambiato è il sistema di misurazione che ad oggi è molto molto più accurato rispetto al passato. Più accurato ma comunque molto più sicuro perché se il nostro carico della CPU è al 60% non vi dovete assolutamente preoccupare di nessuna conseguenza. Certamente se con tutte le impostazioni, i PID loop che avete impostato andate poi a superare la soglia dell'80% ecco, magari qualche domandina me la andrei a fare e mi inizierei a preoccupare. Questo perché? Non è che la vostra FC smette di funzionare quando il carico della CPU è massimo ma quello che succede è che andrà via via a chillare dei processi che secondo lei non sono rilevanti e questo vi potrebbe portare alcuni problemi in volo o comunque dei comportamenti anomali o prestazioni diverse da quelle che sperimentate solitamente. Diciamo che volendo fare quel passo indietro nella storia che avevo già preventivato sta succedendo quello che è successo molti anni fa nel passaggio tra le schede F3 e le schede F4 quindi via via l'hardware sta diventando più obsoleto e gli sviluppatori decidono di non includerlo poi così tanto negli aggiornamenti futuri consci anche del fatto che molti ormai utilizzano flight controller di nuova generazione quindi al posto delle F3 questa volta ci sono le F4 e al posto delle F4 ci sono le F7 e ovviamente le H7 gli sviluppatori danno quindi priorità alle schede di ultima generazione mettendo solo queste in condizione di sfruttare il nuovo Betaflight 4.3 al 100% della sua potenza ad oggi con le F4 ancora si riesce ad installare Betaflight 4.3 si riesce ad utilizzare ma potrebbe essere necessario andare ad operare una serie di cambiamenti per alleggerire un pochettino il carico della CPU quindi se avete una scheda di questo tipo adesso vi do 2-3 consigli ma poi andremo anche a vedere sul CLI come capire se il nostro processore sta in overflow e quindi non riesce a gestire correttamente i processi del nostro software quindi di Betaflight 4.3 una delle principali cause di questo affaticamento chiamiamolo così delle vostre FC è l'RPM filtering che molti di voi probabilmente utilizzeranno molti di voi conosceranno ed è stato introdotto già da qualche versione di Betaflight però è andato migliorando nel corso del tempo e ovviamente è diventato anche un po' più oneroso come energia spesa dal processore visto che sarebbe meglio andare ad utilizzarlo perché si è visto che le prestazioni con RPM filtering vanno molto a migliorare possiamo lasciarlo per ultimo nella scala delle cose che dovremmo andare a ritoccare per abbassare leggermente il carico della nostra CPU infatti la prima cosa sulla quale possiamo andare ad agire è la PID loop frequency quella che trovate nella pagina principale delle impostazioni di Betaflight e che solitamente è su 8-8 kHz quindi l'operazione da fare è quella di andare ad abbassarla da 8 kHz a 4 kHz quindi sicuramente avrete un risparmio notevole in percentuale sulla vostra CPU load se ancora non basta c'è un altro trucchetto ossia sulla pagina di configurazione quella dove andate ad impostare il protocollo per i vostri ESC potete passare da Dshot 600 a Dshot 300 vi posso assicurare che non vedrete praticamente la differenza quando state volando a meno che voi non siate veramente dei pro esagerati quindi volando sbang e volando con dei rate altissimi in proximity non si riesca a notare una differenza ma vi posso assicurare che da tutti i test che io ho effettuato non si nota se però volete affidarvi alla tecnologia e non vi basta andare a rimuovere cose per sentirvi sicuri vi dico che su Betaflight c'è una possibilità appunto per capire se la vostra FC è in difficoltà e per fare questo dovremo recarci sul CLI sia sul terminale di Betaflight e digitare il termine inglese tasks vedrete tutta una serie di valori che però a noi non interessano perché gli unici tre a cui noi daremo importanza sono gyro, filter e loop che devono essere identici o comunque davvero molto molto simili a quei valori di pit loop frequency di cui vi ho parlato prima quindi se abbiamo 8 kHz dovremmo avere 8000 certo se c'è 8100 o 7999 non c'è alcun tipo di problema ma se già arriviamo a un discostamento di 10, 20 o 30 kHz ecco qualche problemino per la nostra scheda comincia ad esserci il consiglio che mi sento di darvi è quello di acquistare FC di nuova generazione se state facendo una build adesso perché risparmiare quei 10, 20 euro acquistando una vecchia F4 potrebbero comportarvi delle prestazioni inferiori e comunque la necessità di andare a fare tutti questi smanettamenti che abbiamo visto all'interno del video ovviamente non vi posso consigliare di acquistare una casetta sono molto costose ma la F7 ad oggi è il compromesso migliore tra prestazioni e costi che purtroppo ahimè con la crisi dei semiconduttori sono aumentati tantissimo su tutti gli shop anche quelli cinesi detto questo io vi ringrazio spero che il video sia stato interessante vi abbia illuminato su un argomento che molto spesso non è trattato specialmente da noi youtuber da questa parte dell'oceano se volete vedere altri video come questi ovviamente iscrivetevi e noi ci vediamo la prossima volta ciao a tutti da Niccolò o Giacas FV ciao a tutti Grazie a tutti.